ciao a tutti oggi vediamo delle incisioni su vetri colorati in particolare abbiamo scelto questa bottiglia scura, vetro quasi marrone, abbiamo applicato uno stencil e direttamente con una fresa diamantata andiamo ad incidere per decorare questa bottiglia si tratta di uno stencil particolare in quanto è flessibile e quindi segue la curvatura della bottiglia ma anche resistente quindi non si rovina con la fresa diamantata qui sto usando la fresa come se fosse un pennarello e vado direttamente a riempire le parti vuote dello stencil un altro metodo invece è quello di segnare solo il contorno e riempirlo successivamente ecco qui vediamo che ho fatto solo il contorno della rosa e proseguo grazie a tutti 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 una volta finiti tutti i contorni con un pennello togliamo la polvere che si è venuta a creare e e andiamo a togliere lo stencil per vedere l'effetto ecco qui ora dobbiamo riempire gli spazi grazie a tutti 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 Grazie a tutti